3.000 addetti stagionali rimasti senza lavoro e quella percentuale che salta subito all'occhio, il 2.486% di aumento delle ore di cassa integrazione autorizzate nel primo trimestre 2020. Non manca nessuna virgola in provincia di Belluno, la richiesta ad oggi è aumentata di 25 volte. Ad esporre i dati sono CGL Cisle Will che tracciano un quadro delle attuali situazioni del mondo del lavoro in vista del primo maggio. Nel bellunese la richiesta di ore di cassa integrazione di Luxottica ha un peso molto alto. Il gigante dell'occhialeria ha il cuore ad Agordo ma ha stabilimenti anche fuori provincia come Rovereto, Pederoba e Lauriano in provincia di Torino. La misura è stata richiesta per tutti gli stabilimenti, poi come per tutte le aziende, il tasso di utilizzo potrebbe essere più basso. In totale le aziende bellunesi hanno ottenuto l'autorizzazione per 1.300.000 ore di cassa in poche settimane. Intanto la fine della stagione turistica invernale già a inizio marzo, secondo le prime stime, ha fatto saltare lo stipendio di circa 3.000 stagionali. Ora si pensa a un rilancio del lavoro in generale e i sindacati sottolineano il tema della sicurezza chiedendo quando possibile l'utilizzo dello smart working e in generale un potenziamento dello spisa per garantire che le aziende si adoperino per proteggere i lavoratori dal contagio. Gli equilibri economici sono delicati e si teme un'onda lunga simile a quella della crisi del 2008 che portò a un biennio grigio tra il 2009 e il 2010. Nel 2019 il mercato del lavoro si è mosso verso un aumento delle stabilizzazioni pur a fronte di un calo di 2.000 assunzioni. Come strategia per il futuro intanto c'è un particolare richiamo al tavolo per le politiche attive che potrebbe agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro fornendo anche possibilità di sviluppo professionale.